Hanno sperato fino all'ultimo i genitori di Chiara Iaconis, la trentenne padovana, morta questa mattina all'ospedale al mare di Napoli dopo essere stata colpita la testa da una statuetta dionice caduta da un palazzo dei quartieri spagnoli. La giovane è spirata alle 10.45, accanto a lei i genitori e la sorella arrivati da Padova e il fidanzato Livio che domenica stava passeggiando al suo fianco al momento della tragedia, nell'ultimo giorno della loro vacanza. Il papà di Chiara Gianfranco, noto amministratore di condomini di Padova, distrutto dal dolore, ha voluto ringraziare i medici napoletani che in questi due giorni hanno seguito la figlia arrivata in condizioni disperate. I genitori sperano non venga disposta all'autopsia per poter riportare quanto prima la salma di Chiara a Padova per i funerali. Nel frattempo la polizia ha individuato il palazzo da dove è precipitata la pesante statuetta dionice a forma di elefante che ha provocato la morte della giovane turista. La procura ha aperto un fascicolo di indagini e il reato per la morte di Chiara diventa omicidio colposo dall'amministrazione comunale parte europea, il cordoglio e la vicinanza alla famiglia Iaconis. Ha preso della morte il sindaco stesso che ha dato il suo affetto, il suo abbraccio alla famiglia. Per quello che riguarda me devo dire che fino alla fine avevo sperato, anche se i medici mi avevano e ci avevano preparato al peggio. In consiglio comunale a Napoli questa mattina c'è stato un minuto di silenzio per Chiara. Molte voci dei consiglieri si sono levate per sottolineare la solidarietà, lo sconcerto per quanto è accaduto e la solidarietà alle famiglie. La sua famiglia e il compagno mi resteranno nel cuore. Cordoglio espresso anche dal presidente del Veneto Luca Zaia. La mia vicinanza alla famiglia, le condoglianze di tutta la comunità veneta per quello che può servire un momento come questo, con una tragedia come questa. Però è una dinamica che ancora non abbiamo capito. Spero che si faccia chiarezza ma non ci riporterà in vita Chiara. Anche il sindaco di Padova Sergio Giordani si è detto molto colpito per la morte della giovane padovana che da qualche tempo per inseguire i suoi sogni si era trasferita a Parigi. È una morte così assurda e tragica, abbiamo sperato e pregato per un epilogo diverso, ha detto il primo cittadino invitando i padovani a dedicare un minuto per ricordare Chiara. Grazie a tutti.